Il nazismo, i suoi alleati, i suoi orrori. Mengele faceva gli sperimenti sui gemelli, però lo faceva anche sugli altri bambini. Tre serate, una riflessione storica per capire il nostro presente, violato anch'esso da guerre e dittature. Mi colpisce come queste personalità, con il loro carisma, riescano a incantare tante persone. Una proposta di Rai Documentari. Il mondo si indigna, ma il Duce risponde, me ne frego. L'uomo che voleva diventare Cesare. Questa sera, 21 e 20, Rai 3.